E' anche noto che gli spray al peperoncino in soggetti diciamo che abbiano assunto sostanze stupefacenti ha un risultato praticamente nullo e purtroppo uno dei nostri agenti ne porta le conseguenze. Mi riferisco a Davide Frondaroli che è ancora in covalescenza per la rottura di una gamba che si è procurato o meglio che gli hanno procurato durante una colluttazione con un soggetto che era difficilmente contenibile. Ecco in quel caso il Tese probabilmente sarebbe riuscito a immobilizzarlo. Quindi maggior sicurezza per i nostri agenti e quindi indirettamente grande sicurezza in più per i cittadini. Un'arma in più oltre allo spray urticante è a disposizione degli agenti. Anche la polizia locale di Arezzo a breve potrebbe essere infatti munita di taser ovvero la pistola ad impulsi elettrici. Una novità recentemente approvata dalla giunta di Arezzo che ha dato l'ok al nuovo regolamento per la disciplina dell'armamentario della polizia locale. È stato individuato un mezzo aggiuntivo che è il taser quindi il sistema impulsi elettrici di recente utilizzo da parte di molte forze dell'ordine. Ovviamente essendo un mezzo relativamente nuovo e di cui i nostri agenti non hanno una dimestichezza particolare inizia con una fase di sperimentazione al termine della quale si deciderà ed è codificato anche questo nel regolamento se, come e quanto utilizzarli. È evidente che è un presidio di sicurezza in più sul quale i nostri agenti possono contare. Prima della definitiva adozione sono previsti sei mesi di sperimentazione. Grazie alla sensibilità di questa giunta si è finalmente avuto regolamento per l'uso delle armi visto che la normativa ha previsto la possibilità anche per la polizia locale dell'uso del taser nella misura di due, ecco perché è una misura prevista dalla legge questa fase di sperimentazione che ci dirà se è un mezzo che a noi è confacente per le nostre attività oppure è un mezzo che non è interessante.